Michele è una persona che mantiene le promesse Se Michele dice che tornerà a fare dei video lunghi Li farà, anche se dopo un anno, più o meno Siamo qua con Omag È la mia nuova ragazza Ah, è che è mia, oh oh Allora, dato che questa mattina ci è venuta anche abbastanza fame Il video del giorno sarà mangiare il più possibile al sushi Chi ingrassa di più al sushi, vince Ci peseremo prima e dopo e vedremo un po' come andrà Benue Siamo arrivati ma uno ha sbagliato posto, quindi lo dobbiamo aspettare Adesso andiamo a dire al maestro cinese Direttamente dal corteo LGBT E' arrivato anche Cimbi E adesso ci peseremo, prego Abbiamo telefoni, portafogli, tutto a posto Quanto è? 90 kg Ma che tiene? Vadi 73 e 2 e 1, attenzione Io con tutto il telefono, 76 Stiamo andando finalmente a mangiare, ricordiamo a Tirio partecipe perché gli piace il pesce Siamo arrivati, siamo pronti per iniziare Poi Prendi, 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 prendi tutto, prendi tutto Stiamo facendo un attimo schifo Ups, ma questo è il caffè Si iniziano a sentire i primi cenni di cedimento Terza fila Atti atti mi prendi un attimo il gatto Abbiamo definitivamente mollato Però abbiamo mangiato un sacco Adesso ci andremo a pesare Allora io dovrei fare pipì Ma non la faccio perché perderei del peso importante ai fini della vittoria Momento della verità Attenzione 3 kg e 3 Attenzione secondo partecipante Entriamo Troppo pesante 1,6 kg e basta Vai ma gliene infatti mangiato poco Ho perso io Non si sa come sia possibile Però ho perso È giusto così La bilancia parla chiaro La bilancia della verità Ha parlato Allora adesso però pensiero che mi attanaglia Ci sveli il suo segreto Essendo che un litro di acqua Equivale a quelle cose simpatiche Ma che Un litro di acqua che vale a un chilo Ho bevuto un litro di acqua Che grande Perché pesavi 90 kg Ma che mu Lo vuoi investire È un litro di acqua che è Un litro di acqua